bene bene arrivati a tutti e un saluto bello a tutti è sempre anche oggi abbiamo è ancora un momento così discontinuo dove qualcuno riesce comincia a venire qualcuno ha un po timore qualcuno ha altre difficoltà ma dopo sono proprio tanti i momenti dove ti accorgi che questo ascolto della parola del signore sta unendo tanti o a continui riscontri in questa direzione di gente che semplicemente ascolta la parola del signore sceglie di ascoltarla di ascoltarla con intensità allora anche il piccolo brano di oggi che era il più nascosto perché siamo all'interno di quella sezione dove ormai abbiamo fatto alcune tappe della parabola del seminatore e con anche alcuni passaggi me l'avete detto anche immediatamente anche voi che sono realmente preziosi e grandi passaggi dove subito dopo l'ascolto della parola ti senti chiamato in causa ti senti coinvolto questo sta parlando anche di me sta parlando anche della mia vita sta parlando e interpella la mia vita questa è la condizione la più bella la più vera la più libera per entrare davvero nell'esperienza viva della parola del signore e allora proprio prima di leggerlo perché vedete sono esattamente tre versetti quasi nascosti nel capitolo 4 di marco perché perché la bellezza del capitolo è costituito da quel il seminatore uscì a seminare quella prima sezione che abbiamo ampiamente vissuto e ascoltato no perché proprio è l'uscire di questo infaticabile e fedelissimo seminatore che ogni giorno esce e fa donno della semente a tutti i terreni lui che conosce già che non tutti i terreni saranno terreni accoglienti ma poi dopo c'è stato anche tutta la sezione dove Gesù spiega la diversità dei frutti e la diversità dei terreni anche questo è stato un momento di grande coinvolgimento anche sotto il profilo personale perché perché t'accorgi e tocchi con mano no che quando lui parla di una vita di corsa una vita di fretta una vita comunque travolta da una infinità di affanni e di preoccupazioni tutto questo ruba la gioia di un seme accolto la ruba quindi ad un certo punto ti trovi magari sudato per il tanto correre ma sostanzialmente arido dentro ora questi sono i capitoli che abbiamo già visti no se poi pensiamo che l'ultimo sabato sabato scorso abbiamo davvero condiviso quella quei passaggi il regno dei cieli e simile era una semelitudine direttamente connessa con la parabola a un granello di senape tu manco lo vedi quando cade per terra ma quando passi dopo vedi addirittura che è cresciuto è un albero divenuto persino frondoso gli uccelli del cielo splendida questa immagine vieni avviene a farvi il nido quindi è all'interno di questo che stanno questi tre versetti ora li leggo e poi dopo sostiamo un poco in maniera così semplice come al solito ma è la cosa credo più bella e più importante da fare quando poi intate i versetti è proprio incorporato in quest'unica fase dove marco raccoglie qualcosa che ritiene fondamentale per introdurre all'esperienza del diventare discepoli del signore fondamentale quindi anche io dicevo no non posso saltarli anche se è un pezzo discontinuo rispetto agli altri è troppo importante ci dice qualcosa del perché gesù fa così e dei ritmi con cui lui ci fa dono di questa parola leggo versetti 10 11 12 quando poi furono da soli quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole ed egli diceva loro a voi è stato dato il mistero del regno di dio per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole affinché guardino sì ma non vedano ascoltino sì ma non comprendano perché non si convertano e venga loro perdonato e bisogna proprio aiutarci non è facile immediatamente coglierlo vedete anche dal cursivo che questa è una citazione di un pezzetto di isaia qualcosa quindi che viene da lontano qualcosa che in qualche modo era già entrato nella pedagogia di un dio che accompagna il cammino del suo popolo notiamo quando poi furono da soli cioè un momento dove si mettono in disparte gesù con i discepoli mentre il resto era alla folla il dialogo adesso è un momento tra loro ed erano intorno a lui insieme che lo interrogavano esattamente sulle parabole ora questo mi sembra davvero una cosa che dice la consapevolezza profonda del signore cioè questo annuncio che è fatto del manifestazione di dio e della accoglienza o non accoglienza dell'uomo non è immediatamente una cosa facile non è immediatamente diventa davvero qualcosa che impegna e che impegna tanto quindi c'è bisogno di raccogliersi in gruppetto di darsi una mano di ragionare insieme questo è davvero un dono di straordinaria bellezza e come se stamattina ci dicesse guarda siamo anche un po meno del solito adesso però io ho delle cose proprio importanti da dire perché e allora se la assumiamo così sapendo che poi dopo quelli che entrano in questo dialogo saranno tanti in questo ascolto saranno tanti se lo assumiamo così lo gustiamo anche più profondamente no anche io non mi sento mai smarrito quando vediamo che siamo di meno del solito no proprio no questa è la condizione è anche molto vicina all'esperienza originaria di gesù perché avverte che il suo manifestarsi è quasi una cosa un po' velata dice e non dice evidenzia e nasconde è vero è vero il parlare in parabole vuol dire esattamente anche questo no che dice altro che se dice mamma mia abbiamo toccato con mano e abbiamo udito delle parole realmente molto forti ma nello stesso tempo sembra tenerlo nascosto velato tant'è che ci vuole un momento tra noi dei pochi ma anche i terreni che siamo noi che accolgono non accolgono abbiamo bisogno di parlare con il maestro perché in fondo tutti e due questi momenti la manifestazione del signore e la diversità dei terreni tutte e due hanno dentro una parola la parola più vera da dire è la parola crisi ma non perché crisi nel senso che uno va in crisi no nel senso che quello che adesso intercorre tra di noi è più profondo di quanto pensi è più profondo di quanto pensi perché Gesù sa che non sta dicendo fino in fondo tutto quello che di sé vorrà dire con la sua vita non lo dice fino in fondo tutt'altro no ci dice solo che il seminatore esce e butta il seme ma dopo dopo quando ti accorgi che il seme buttato ecco qua il passaggio è lui è il signore il signore non rivela immediatamente la pienezza della sua persona è uno che parte da seme da qualcosa che è piccolo che è assolutamente imparagonabile alla complessità della vita e alla difficoltà della vita ma è il seme buttato nei terreni dal seminatore questo mi sembra davvero una considerazione di grande importanza e anche loro hanno bisogno di riconoscere ma se davvero stiamo comprendendo che il maestro è così e che dice cose grandi ma in una forma semplice sta con noi ma è più grande di noi anche noi abbiamo bisogno di interrogarci ma io allora concretamente a fronte di questo regalo che il signore mi fa io che terreno sono fiorisce qualcosa oppure non c'è tempo che fiorisca niente per me perché corriamo talmente tanto che non abbiamo manco l'asso possibilità di una sosta e di una verifica oppure perché magari ti entusiasmi quando senti alcune parole ma dopo sei travolto dalla tua stessa vita dai tuoi stessi ritmi dai tuoi eccesso di affanni dicevamo l'altra volta e lui non sta parlando degli affanni che capitano una volta ogni giubileo no no parlo degli affanni quotidiani quelli di ogni giorno quello delle treppe cose delle troppe cose quello delle preoccupazioni grandi quello della esiguità delle nostre risorse sta parlando di questo e questo davvero ti preoccupa e ti preoccupa in maniera profonda e vera e questo come mi sembra importante riconosce loro come un momento di grande finezza del maestro che smette e prende in disparte un po' a gruppetto riusciamo magari a dirci qualche cosa che è davvero importante questa differenza tra noi e quelli di fuori non significa una differenza tra noi che siamo qui e quelli che non c'entrano no non c'è mai una frase che atoni così in Gesù mai non c'è una frattura tra il noi e gli altri tra quelli di casa e quelli di fuori perché la forza della parola supera i confini i confini nostri tant'è che anche noi in pochi facciamo fatica a capire fino in fondo e i confini di chi sta fuori perché è smarrito non ritrova il linguaggio che si aspettava teme davvero di essere a tu per tu con un maestro che gli sta domandando degli strappi troppo forti della sua vita e allora non ce la fa non ce la fa più e non c'è una parola di condanna non c'è c'è la continuità di un regalo bello prezioso il seme il seminatore ogni giorno lo regala a tutti i terreni questa è ad agio ad agio la bellezza della parabola dove siamo proprio soltanto all'inizio e non abbiamo ancora capito davvero chi si nasconde dietro la parabola che dice pensiamo di essere solo noi a nasconderci perché ci sentiamo davvero tra noi dei sentieri dei terreni diversi ma è anche lui che si nasconde che non dice subito tutto in maniera chiara di lui c'è una progressione perché per un ascolto così il cuore va purificato se sei sovradeterminato dagli eccessi dai ritmi dalle preoccupazioni guarda che non riuscirai a cogliere e allora il signore sembra proprio a prenderci delle pause per dire guarda che guarda che e questo è davvero molto importante in fondo che cosa intravediamo in questa citazione del profeta Isaia che si può anche udire e non capire si può anche esserci e non comprendere ci si può anche incontrare e non conoscersi e questo è un linguaggio profondo il profeta lo aveva detto da lontano ma adesso sentirlo nel linguaggio stesso delle paraboli di Gesù diventa qualcosa di assolutamente incisivo ma questo è il linguaggio di Dio che rivela e tiene nascosto perché tu faccia il tuo passo interiore perché scegli ad agio ad agio che lui diventi importante per la tua vita ma questo lo devi scegliere tu non ti è dato come scontato devi scegliere tu e questo mi sembra qualcosa di profondamente vero e di profondamente grande questa pedagogia paziente di chi sa anche vedere i vuoti chi sa riconoscere l'imprevista aridità dei terreni ma instancabile ripassa come seminatore per farti dono di un seme e tu sai già di essere un terreno arido e seme lo regala anche a te questa è cosa assolutamente commovente lui sta vedendo che c'è gente che a fronte del Vangelo che sta via via dicendo si ritrae non comprende o rifiuta ho troppe cose già mie cui pensare non ho tempo di aprirmi al linguaggio e allo sguardo di questo maestro ora questa è davvero una cosa che ti colpisce perché dici ma signore ma perché allora non hai parlato più chiaramente no perché i tempi forse devono essere questi non è una informazione che tu ascolti ma è una parola che introduci nel tuo vissuto di vita questa è un'altra cosa un'informazione puoi anche sentirlo da un telegiornale un seme da introdurre nella vita ha bisogno di essere custodito nel silenzio e nella riflessione o meglio ha bisogno di essere ospitato da te ospitato da te quindi quindi non fugacemente così senti ma non fai nulla no senti e sosti introduci e questo davvero è la parola di Dio la parola di Dio è una parola che non costringe mai non costringe mai non ti obbliga a credere la parola di Dio è seme che ti ha dato adesso venga fuori il terreno che sei e verrò fuori anch'io dice il Signore aiutandovi a comprendere chi io sono veramente io che arriverò a far dono della mia vita e a far dono gratuitamente della mia vita questo mi sembra proprio qualcosa che è tipico del Vangelo che è tipico della cosa guarda che è un regalo che è più bello di quanto pensi però è piccolo non ha un'evidenza non ha una solennità non sta su di un piedestallo entra nel cuore delle persone quindi noi sappiamo bene come è anche vera quell'espressione che il profeta dice ascolti e non comprendi senti ma non capisci è già stato tante volte è vero per noi credo che ognuno di noi lo possa dire con semplicità della sua vita ma proprio questo è davvero la cosa che visibilmente ti regala qualche cosa di grande ora qui c'è il passaggio fondamentale che è graduale che è anche nostro io sono sicuro che sto parlando e dicendo di cose che ognuno di noi ha dentro e con cui dice a se stesso io devo fare veramente dei passi altrimenti la distanza con il Signore rimane una distanza eccessiva ma questo è uno dei passaggi di verità della propria vita tra i più importanti forse non l'ho capito ancora fino in fondo il Vangelo forse mi sfugge ancora questo maestro di Nazareth che vive in una forma che davvero ti incanta e nello stesso tempo è inafferrabile senti l'esigenza di una progressione di avvicinamento e questo com'è davvero prezioso perché quando poi incominci a capire ti accorgi che questo ti capovolge la prospettiva una cosa piccola diventa enormemente importante un successo non è il compimento della tua vita magari il compimento della tua vita ha qualche volta i contorni del fallimento sta parlando così sta dicendo questo e tu dici ma io qui ho bisogno di sostare di spegnere l'audio e di mettermi davvero a farmi interrogare da una parola che intuisco essere bella ma che ancora non ho compreso e lui non accelera apposta per costringimi a credere lui non costringe i passi li dobbiamo fare ciascuno di noi questa è una cosa grande è una cosa grande perché io tra l'altro mentre dico queste cose ma ancora sto parlando anche di me eh io non sono uno che faccio una fatica grande a fronte della novità del Vangelo ma è questa singolarità del Vangelo a farmelo sentire come una parola vera questo non è un linguaggio che va a raccogliere consensi che attende gli applausi che pretende i riconoscimenti no è una parola data a tutti i terreni a tutti i terreni ogni volta questa è una invincibile forza di questo regalo io potrò zittirlo per anni ma prima o poi sento il dovere di chiedermi ma io che ne ho fatto di un sieme che il Signore ci stava regalando che cosa è diventato in me che cosa è diventato in me per incoraggiare intanto come al solito siamo nella fase già conclusiva ma per incoraggiare vorrei anche dire che tante volte è la tentazione di metterci tra quelli che stanno di fuori l'abbiamo ma abbiamo anche magari la gioia di riconoscere che non vogliamo rimanere tra quelli che stanno fuori che sono davvero adesso colpiti da questo seme che oramai senti dentro di te seme che uno ti ha messo nel cuore e che ti aiuta a riconoscere a che punto è la tua vita e anche in questo caso io mi faccio proprio aiutare tanto dalle persone reali dalle persone concrete cioè da noi dalla nostra vita no c'è ci sono situazioni pesanti della nostra vita abbiamo anche attraversato in questo tempo passaggi realmente sofferti abbiamo visto da vicino anche la drammaticità del morire di persone cui vogliamo bene abbiamo sentito le resistenze più grandi a fronte di un momento così faticoso abbiamo davvero e tocchiamo con mano che quanto davamo per sicuro sicuro non è così tanto neppure la salute neppure il lavoro neppure il sufficiente per vivere senza panico ora perché allora decidi di non metterti nel gruppo di quelli di fuori e chiudi col Vangelo perché invece il Vangelo continua seriamente ad interrogarti e tu ad un certo punto scegli di continuare a lasciartene interrogare e questi sono i miracoli questi sono i miracoli che avvengono anche tra noi che avvengono con tantissimi amici mamma mia com'è vera questa cosa com'è vera sembra un deserto di osari del mondo in questo momento dove la pandemia la fa da padrone e invece tu t'accorgi che quello che accade nel cuore delle persone è qualcosa di molto più vivo io non ci sto che la mia vita diventi uno spazio di aridità non ci sto io cerco io ascolto io mi metto in cammino io mi rimetto in questione e questo davvero costituisce la ragione per la quale una volta che hai scelto di lasciarti interrogare dal Vangelo non ce la fai più a liberartene ma non perché ti costringe ma perché tu ti senti costretto ad aiutare un ascolto più vero nel tuo cuore e nella tua vita questa cosa è davvero molto importante no queste sono parabole che parlano è un linguaggio che sembra è proprio marginale ma che in realtà ha una potenza di vita dentro capace di mettere in questione anche le convinzioni che sembravano più solide di metterti in cammino tu che ti pensavi già realizzato e arrivato di rimetterti autenticamente in cammino e questo mi sembra una cosa davvero importante chissà quando arriveremo non so quante meditazioni ancora ci saranno sulle parabole perché sono parecchie e io non ne vorrei saltare neanche una dopo aver fatto questi sabati adesso non ne voglio proprio saltare neanche una perché mi accorgo che sono così nuove anche per me e per la mia vita che non voglio privare i miei amici di quello che invece queste parabole ci vogliono dire ecco questa è una maniera con cui ci diciamo sinceramente queste cose siamo all'inizio del cammino della fede anche se ci sembra posso dire una cosa che non dovrei dire ma come faccio a non dirla no che io a quest'ora a quest'ora 56 anni fa sono stato ordinato prete oggi eravamo una settantina o più in Duomo no e questa cosa ma perché la dico per farmi fare gli auguri ma no ma no la dico perché perché la verità di questa parabola che sto adesso dicendo è da anni che tento di cercarla prima e poi quando poi sono diventato uno chiamato ad annunciare il Vangelo sto ancora cercando di farlo e io mi sento proprio col sempre con il rischio di diventare anch'io uno di quelli di fuori ma non ce la faccio non ce la faccio io voglio essere di casa io voglio stare accanto al Vangelo io voglio cercare davvero di ascoltarlo di farmene davvero realmente contagiare e interrogare quindi non so quest'anno nei sabati vedo che ogni tanto ci casco per forza e come faccio a non dirvi a far finta anche perché qualcuno temo che lo sappia che se lo ricordi che oggi è il 26 giugno e io non ce la faccio a tenere nascoste queste cose che tra l'altro di merito mio non ci hanno niente niente io ero un ragazzo sconcertato di quello che stava accadendo avevo sempre sognato altro di giocare al pallone di fare il radiocronista la mia passione vera erano quelle lì e adesso mi sento dentro una cosa ma chi mi ha messo nel cuore questo chi mi ha messo nel cuore questo e dopo arrivi anche dopo tanti anni a dire mamma mia ma quanta aridità c'è ancora nella mia vita e quanta voglia però di superarla c'è nella mia vita dimmi tu se questo non era davvero un seme fecondo lo possiamo chiamare per nome a questo punto si chiama Gesù questo è il seme questo è il seme questo non altro questo è il seme che via via cresce e crescerà e ad un certo punto te ne innamori non ne puoi fare senza ti accorgi che la tua vita andrebbe in penombra ingrigisce non sarebbe più la tua vita voi mi scusate se ma dopo uno non deve nascondere delle cose di cui tra l'altro non è protagonista ma è un beneficiario beneficiato io sono stato raggiunto ma come ognuno di voi è raggiunto da questo seme dopo i nostri sentieri sono diversi ma l'importante è che il seme cresca che fiorisca che il terreno esca dalle condizioni di aridità e diventi un terreno bello come stamattina guarda che incanto di colori di sole di bellezza e allora tutto questo è proprio una cosa molto molto importante tenendo ancora la registrazione ho due avvisi che devo fare importanti e che sono davvero necessari quindi anche i tanti amici chiudranno è bene che la odano e cioè abbiamo dovuto rinunciare anche da tantissimo tempo ai giovedì sera per chi voleva no incontrarsi per l'ascolto alla parola del Signore adesso siamo arrivati a questo punto ora che un poco di presenza incomincia che continuiamo tutti e due i binari io il martedì in orari che cambiano ogni volta quindi non c'è mai nulla in diretta io faccio la video vengo registrato quando faccio 10-12 minuti di sguardo sulla parola del Signore e lo vorrei fare da qui in avanti sguardo sulla parola del Signore facendo emergere che tappa è dell'anno liturgico dove il Signore ci guida questa domenica che cosa mi sta regalando che dono mi fa che cosa mi sta chiedendo che luce mi regala invece il giovedì sera ridiventa normale a partire dal prossimo giovedì dopo chi può e chi vuole immagino che dove siete anche tanti di voi giovedì non ci riuscirete ad essere qui ma magari un gruppetto c'è e comunque ad esempio giovedì comincerà ad esserci regolarmente non vittorio a fare lui giovedì no questo non viene registrato no però però lo facciamo essere perché la casa questa casa è nata per i sabati e per i giovedì non per la magia di qualcuno che faceva il riferimento ma neanche per idea è per quello che è accaduto nel sabato e nel giovedì ed è diventata una casa eh come mi piace dirlo questo stamattina che siamo davvero molto di meno del solito ma perché mi sento ancora più vera questa parola che dico più vera più vera perché non è l'attrattiva che ti conquista è il Signore che ci conquista è il Signore intanto ho perso il secondo avviso no questo che con i sabati rimaniamo ancora nelle forme ancora impoverite di questo tempo e sappiamo anche la ragione non ce ne facciamo più un dramma no ci aiutiamo ad attraversarlo comunque almeno un piccolo spazio dove oltre le persone che già sono in casa perché qualcuno è già in casa e sta anche facendo giornate in casa no e anche volesse venire almeno ogni sabato c'è la possibilità che cinque se vogliono si fermino a pranzo e quando si arriva si segne due amici l'hanno fatto stamattina adesso però lo dico un po' per tutti è troppo poco no è evidente però però sono anche qui le piccole cose che incominciano anche qui non oso paragonarli al seme il seme è il Signore no però guarda si smuove qualcosa anche nei terreni che siamo noi nella nostra vita nei nostri ritmi nelle nostre possibilità forse adesso ho proprio detto tutto eh quindi ci possiamo fermare così e stamattina teniamolo come possibilità di silenzio di preghiera eh ognuno si senta anche libero qualcuno mi ha già detto che deve tornare subito quindi va bene non c'è problema però custodiamo anche tra noi un clima dove ci siamo presi un po' di tempo del sabato per riflettere per pregare adesso volentieri lo facciamo grazie